Era stato teatro di una violenta rissa scoppiata per futili motivi nella notte tra sabato e domenica. Stamani il questore di Arezzo ha sospeso per 15 giorni la licenza ad un circolo in via Calamandrei che vendeva anche cibo e bevande. Il provvedimento di chiusura è stato adottato proprio a seguito dei fatti dello scorso fine settimana nei quali quattro persone erano rimaste ferite, un 24enne anche in modo grave con un'arma da taglio. Tutti e quattro erano stati medicati e refertati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato dove il 24enne era andato in escandescenze aggredendo verbalmente e sputando addosso agli operatori sanitari. Sul luogo della rissa gli agenti avevano anche sequestrato un coltello ed un cacciavite. Non si tratterebbe però di un episodio isolato. Sarebbero numerosi gli interventi degli agenti della polizia nell'aria adiacente al locale. Da qui la chiusura a garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'obiettivo è infatti produrre un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti con precedenti penali a carico che comunque non sono nuovi a episodi del genere.